... Ripresa delle attività degli ambulatori, la Fialz denuncia disagi dopo la fase di emergenza del coronavirus. Sono ripartite le visite, il sindacalista Carmine Vasile evidenzia i problemi, al Cardarelli Paglione sollecita investimenti per il caracciolo di Agnone. Parte la stagione estiva, c'è voglia di normalità, termoli la gente, torna in spiaggia tra distanze e nuove regole da seguire, i lidi riaprono e sulle spiagge libere ha attivato il servizio di salvataggio dalla regione. 150 mila euro per la loro messa in sicurezza. Emergenza cinghiali, la richiesta di interventi, gli imprenditori sollecitano aiuti alle istituzioni, se non si interviene subito i danni saranno irreparabili. L'assessore Cavaliere ribadisce l'impegno della regione ma occorre celerità. Lavori di elettrificazione da domani, stop a alcuni treni, gli interventi sulla tratta Campobasso-Roma e Campobasso-Napoli. Sarà interrotta la circolazione tra il capoluogo e Rocca-Ravindola-Venafro, previsti servizi sostitutivi su gomma. Mercoledì, Consiglio federale della FIGC Molise, la riunione per ufficializzare i verdetti di questa stagione e per discutere sugli aiuti economici da stanziare per i prossimi campionati. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità e della situazione degli ambulatori, la cui attività è ripresa dopo l'emergenza coronavirus, ma non mancano i problemi e i disagi, come ci racconta Anna Maria Di Matteo in questo servizio, in cui ha intervistato Carmine Vasile della Fialz. Sentiamo. L'emergenza coronavirus sembra essere ormai alle spalle per il Molise. Al Cardarelli non ci sono più pazienti ricoverati per Covid, consentendo così una graduale ripresa delle attività ambulatoriali, seppure tra mille difficoltà e disagi per i pazienti, ma anche tra gli operatori sanitari. L'attività ambulatoriale è ripartita, ma è ripartita a fatica, specialmente all'ospedale Cardarelli, perché l'ospedale Cardarelli era stato individuato come ospedale Covid e quindi, avendo tracciato dei percorsi diversi da quelli che erano all'origine, oggi tutto quello che era destinato ad ambulatorio non lo è più e quindi significa che una parte degli ambulatori non vengono più fatti all'interno dell'ospedale, ma vengono fatti nella zona di Acende, ex hospice, con un bel po' di disagio avvertito sia dai pazienti che timbrano la ricetta all'ingresso dell'ospedale e poi devono uscire di nuovo fuori, e tantissimo disagio anche dagli stessi specialisti che devono uscire dall'ospedale per andare a visitare i pazienti in questa ala esterna all'ospedale Cardarelli. Ma parliamo della stessa ala che il Presidente Toma vorrebbe adibire a centro Covid, lui nel corso di una conferenza stampa recente ha detto proprio questo, insomma. Sì, è un'ala che dovrebbe essere naturalmente ristrutturata ex novo perché c'è il piano terra che comunque si vedono i pilastri, poi c'è un terzo piano che non è accessibile perché non c'è l'ascensore. Non so quello che si vorrà fare in prossimità del 17, termine ultimo per presentare un progetto al Ministero. Certo è che queste diatribe che stiamo vivendo in quest'ultimo periodo, che vedono posizioni diverse su una emergenza come questa, come sindacato sinceramente non riesco a concepirle. Ecco, io volevo farle proprio questa domanda. Che cosa pensa dell'iniziativa che stanno assumendo sindaci e comitati per ottenere l'apertura di un centro Covid all'ospedale Vietri di Larino? Io non voglio entrare in questa faccenda perché il mio ruolo è un ruolo diverso. Certo è che questa diatribe, ripeto, al momento non ci voleva. Io avrei desiderato tanto che si fossero messe intorno a un tavolo il Presidente della Regione, il Commissario e anche i sindaci, perché i sindaci sono responsabili della sanità in una Regione. Quindi tutti insieme avrebbero dovuto fare sintesi mentre c'era l'emergenza. Non oggi che il progetto doveva essere già sul tavolo del Ministero. L'ultimo bollettino, quello di ieri sera dell'ASREM con i dati sul coronavirus. Sono dati positivi perché non ci sono contagiati nelle ultime ore. Dunque nessun nuovo contagio, tutti negativi, 351 tamponi processati. Ci sono inoltre ben 24 nuovi guariti. Tra questi 20 appartengono alla comunità Rom di Campobasso. Ci sono poi anche una persona del capoluogo e un residente di Cerce Maggiore. L'altra novità importante è che per la prima volta non ci sono più ricoverati al Cardarelli per Covid nei reparti di malattie infettive e terapia intensiva. Gli ultimi due pazienti di Campobasso e Portocannone sono stati dichiarati guariti e dunque trasferiti in reparti no Covid per altre patologie. Alla luce di queste novità cala drasticamente il numero degli attualmente positivi, che sono 97, scendono dunque sotto quota 100. Il numero dei guariti balza a 307. Il dato complessivo dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza resta fermo a 439, mentre quello dei tamponi processati sale a 17.630. Vediamo adesso la mappa aggiornata per Comune con gli attualmente positivi. Sono 64 a Campobasso, 11 a Termoli, 3 a Cerce Maggiore, Portocannone e Belmonte del Sannio, 1 rispettivamente a Baranello, Campoglieto, Castellino del Biferno, Gambatesa, Macchiagodena, Montaquila, Oratino, Poggio Sannita, San Giuliano del Sannio, San Martino in Pensilis e Vinchiaturo. E sono tutte con l'indice RT sotto l'1. Le regioni italiane monitorate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità e anche il Molise continuano a migliorare in una settimana. Passa da 0,59 a 0,48 il periodo di riferimento riguardo ai casi con data prelievo di agnosi, settimana dell'1,7 giugno, aggiornati al 9 giugno, confrontati con la settimana del 25-31 maggio. Basta scuse, con il decreto rilancio si può tornare a investire sul caracciolo. A dirlo è il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. Il primo cittadino in particolare propone di creare posti di terapia intensiva per far funzionare il pronto soccorso, di attivare le nuove sale operatorie e di dotare la radiologia di un'attacca. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. In questi giorni si parla giustamente dell'ospedale di Larino, ma si continua a ignorare quello di Agnone. Ora però non ci sono più scuse. Le risorse per riattivare i servizi essenziali al caracciolo ci sono. Dunque il caso di tornare a investire nella sanità anche in Alto Molise. Suona più o meno così l'appello del sindaco di Capracotta, Candido Paglione, indirizzato ai vertici della regione dell'ASREM. Si abbia il coraggio di tornare a investire sull'ospedale di Agnone, perché nel corso degli ultimi anni questo ospedale ha subito soltanto tagli e ridimensionamenti. Però adesso io credo che non ci siano più scuse, perché le risorse ci sono. Io penso quindi che si possa investire cominciando ad esempio ad istituire un minimo di posti di terapia intensiva per far funzionare dignitosamente il pronto soccorso, le sale operatorie nuove che possono essere utilizzate sicuramente per il Day e per il Week Surgery, il reparto di medicina al quale dovrà essere subito assegnato un direttore, e così gli altri servizi, la radiologia che magari possa essere finalmente dotata di una nuova TAC, il laboratorio di analisi, gli ambulatori specialistici, in primis quello di cardiologia. È il minimo che occorre per strutturare un ospedale di area disagiata. Per il primo cittadino di Capracotta oggi più che mai è fondamentale assicurare alla popolazione alto molisana e dei vicini paesi abruzzesi i servizi necessari in un'area che già patisce grandi disagi. Quando l'emergenza sarà del tutto cessata ci si ritroverà di fronte ai problemi di sempre, salvo voler cogliere gli aspetti positivi, puntando ad esempio sull'ambiente, sui grandi spazi a disposizione e sulla qualità della vita. Ma prima di ogni cosa è necessario garantire sicurezza a partire dalla sanità. Io credo che potremo giocarci qualche opportunità che ci viene data, ad esempio, dall'ambiente pulito, dai grandi spazi di cui disponiamo, dall'imminente attivazione della banda ultralarga e dalla stessa qualità del vivere, proprio per provare a ripopolare i nostri territori. Per questo poter contare su un ospedale che funziona e che riesce a mettere in sicurezza la vita delle persone può rappresentare davvero un punto di forza per far ripartire tutto il territorio. I medici e i farmacisti molisani chiedono un tavolo tecnico alla Regione, aperto anche alle sigle sindacali mediche, per valutare i problemi che potrebbero presentarsi nell'immediato futuro. L'incognita di una fase della pandemia, un possibile ritorno del Covid in autunno e le prossime campagne antinfluenzali, che probabilmente vedranno una vaccinazione massiccia della popolazione, fa presente Federfarma, impongono delle soluzioni già allo stato attuale. Fismo e Federfarma inoltre chiedono che si continui con la dematerializzazione totale delle ricette mediche al fine di evitare gli spostamenti inutili e rischiosi della popolazione, soprattutto anziana, per migliorare le prestazioni sanitarie per i pazienti. Parte la stagione estiva a Termoli, tra distanze nuove regole da seguire, c'è tanta voglia di normalità. sulle spiagge libere è stato attivato anche il servizio di salvataggio e ha revocato il divieto di fare il bagno. Manuela Iorio è andata proprio in spiaggia a vedere la situazione. Primo vero weekend d'estate sulla costa, le spiagge si iniziano a ripopolare, oggi giornata molto calda, nonostante nei giorni scorsi le temperature non sono state altissime. Le spiagge non sono ancora, non c'è ancora il pienone, ma c'è tanta voglia di normalità. Siete appena arrivati, primo giorno di mare? Il secondo giorno di mare. Da dove venite? Noi dalla provincia di Foggia. Abbiamo nostro fratello che abita, quindi siamo venuti a trovarlo dopo questa quarantena. Le regole qui sulla spiaggia si rispettano, sì? Sì, sì, abbastanza. Infatti ci sono abbastanza spazi tra un ombrellone e un altro. Picchia il sole? No, non tanto, si sta bene. A oggi benissimo, benissimo, davvero molto molto bella la giornata, poi non c'è tanta gente, da Dio. Paura del covid? Ma stiamo tornando alla normalità, dai, piano piano diciamo che con le dovute accortezze si può ritornare pian piano alla vita normale forse. Si ritorna in spiaggia? Sì, dopo tanto finalmente. All'inizio si pensava che fosse tutto diverso e addirittura non si pensava neanche di tornare al mare, però è bello tornare e ritrovarsi con tutti e quindi è stata una bella cosa quello che hanno fatto. Ci sono regole da rispettare al Lido? Certo, c'è da rispettare la distanza e entrando nel bar ci vuole la mascherina, però sono cose che noi già sapevamo da prima, quindi non è che ci pesano tanto. Anche perché siamo stati in quarantena per tanto tempo, abbiamo tenuto le distanze, la mascherina e quindi non è una cosa che ci dà fastidio. Come si sta in acqua? Bellissimo oggi. E dove vieni? Svizzera. Lucerna. Come mai Termoli? Abbiamo i genitori che vivono qui. Si torna al mare e sono contenti soprattutto i bimbi? Esatto, avendo due bambini piccoli, uno di tre anni e mezzo e una bimba di cinque anni, non potevo non pensare di passare l'estate senza il nostro mare. Purtroppo non ci saranno più giochi, però l'importante è che possono prendere il sole e che fa bene, vitamina D. Qualche timore? No, timore no. Sinceramente hanno rispettato bene le distanze di sicurezza, poi dicono che ogni famiglia sotto cinque persone, quattro persone se sono amici. Bisogna rispettare le regole e si va avanti, però paura no, non ne abbiamo diciamo. La voglia, senz'altro, ma di stare soprattutto insieme alle persone, condividere qualcosa, anche con le dovute cautele. Paura del Covid? No, no, forse sarà inconscienza, ma non ho paura, però ciò non toglie che comunque sto un po' più attento di quanto del solito. Siamo con un gestore, Antonio Galasso, come è iniziata la stagione? Beh, oggi iniziamo bene, il sole c'è, qualche persona viene giù, però siamo all'inizio, dai. Però secondo me funzionerà tutto bene, perché questo virus si sta allentando. Vediamo, speriamo bene. Ma poi c'è tanta voglia di normalità. Sì, la normalità è importante. Abbiamo sofferto parecchio, tre mesi sembrano pochi, ma sono stati troppo lunghi. La normalità è una cosa importante per tutti, poi i bambini, passerà. È stato difficile riorganizzare il lito con le nuove regole? Sì, ma è difficile no, però bisogna adeguarsi, organizzarsi bene, i percorsi, gli ombrelloni. Ad esempio noi gli ombrelloni, anziché 10 metri quadri, ho messo a 16. 16 va bene, va bene lo stesso. L'importante è che le persone si rilassano. Ciao! E come si vede c'è tanta, tantissima voglia di tornare alla normalità, soprattutto per l'estate. E 150 mila euro per mettere in sicurezza le spiagge libere della costa molisana in questa fase post-covid. Somma che verrà distribuita in proporzione al numero di chilometri per comune. Il finanziamento è stato reperito dalla Regione Molise attraverso il progetto di cooperazione internazionale denominato Due Mari. I dettagli sono stati illustrati durante un incontro dal governatore Donato Toma e dall'assessore al turismo Vincenzo Cotugno con i quattro sindaci della costa. È prevista la regolamentazione dell'accesso alle spiagge libere con la predisposizione di Stuart e Hostess incaricati, bagni autoigienizzati e differenziazione dei percorsi di entrata e uscita. Emergenza cinghiali, se ne è parlato anche a ingresso libero ieri. Diverse le posizioni con gli agricoltori, in particolare che chiedono sostegno immediato alle istituzioni in quanto i danni sono notevoli e potrebbero essere irreparabili. Allora sentiamo. L'emergenza cinghiali continua ad animare il dibattito con gli agricoltori, soprattutto che vogliono soluzioni perché devono fronteggiare danni notevoli. C'è chi chiede lo stato di emergenza a livello regionale come l'ha col diretti decisa poi la posizione della CIA Molise Confederazione Agricoltori. La caccia è un'attività ludico-sportiva, non è la soluzione al tema. Credo che ci sia necessità di azioni sinergiche, vale a dire questi cinghiali che si riproducono facilmente, che hanno superato ormai una stima per difetto di oltre 20.000 capi in questa regione e quindi rappresentano il 6-7% della popolazione molisana, vanno affrontati di petto attraverso varie azioni. In particolare noi riteniamo che oltre evidentemente alla modifica della legge e quindi a un periodo di caccia più lungo, alla caccia e se le controllo va bene, vada comunque affrontata anche il tema della cattura perché ci sono anche delle zone più antropizzate. Il consigliere regionale del PD, Vittorino Facciolla, si rivolge direttamente all'assessore regionale Cavaliere. Fra le altre cose io lo invito, l'ho già fatto, a verificare la reiterazione dei danni sempre dei soliti noti e sempre con somme che sono assolutamente sovrabbondanti rispetto al valore del coltivato. Quindi io, siccome è registrato, lo sentirà, si può trasferire anche agli organi competenti quello che vado dicendo. E quindi l'atteggiamento di verifica deve essere, del danno e della quantificazione del danno, deve essere assolutamente puntuale. Ma non si affronta in questo modo, parlando solo del risarcimento, la vicenda dei cinghiali. Bisogna mettere in campo azioni che servono a, in qualche modo, a fare prevenzione. Vittorio Nola, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, sottolinea che l'emergenza non si risolve solo con le doppiette e bisogna mettere mano al piano faunistico. Allora, adesso che bisogna intervenire, creando un disciplinare nuovo, una nuova procedura che preveda non la caccia di selezione o solo la caccia di selezione, ma che preveda il contenimento della specie, che è una procedura complessa che in altre regioni hanno già applicato con successo e che riguarda il coinvolgimento anche dei carabinieri forestali e dei veterinali della ASL. Il tutto, il circuito, poi, si va a chiudere con la creazione del progetto di filiera delle carni selvatiche, quindi non solo per i cinghiali, e devo dire la verità, molti macellai già si sono consorziati tra di loro e stanno andando avanti da soli, hanno chiesto supporto alla regione e nemmeno sono stati ricevuti. Sono sette anni e stiamo lottando per avere questa filiera, però non abbiamo nessuna risposta né dal presidente della regione né dagli altri incompetenti. Io dico una cosa, ma perché questi cinghiali dobbiamo venderli a quelli di Bologna, a quelli di Roma, a quelli di Firenze? Quando possiamo creare questa filiera e darla ora anche ai nostri macellai, agli operai, perché non ci mettono in condizioni di vendere cinghiali? Hanno fatto la legge per la vendita del cinghiale, perché non ci danno una struttura, un mattatore? L'assessore Cavaliere Incalzato, su un tema molto discusso, ha difeso il suo operato in trasmissione a ingresso libero. Ad oggi abbiamo finalizzato 2 milioni e 200 mila euro per il risarcimento d'anni, che naturalmente non può vedere l'agricoltore direttamente, perché quei 2 milioni e 2 si vanno a pagare i debiti pregressi. Quindi è una catena di San D'Antonio che arriverà a una fine, ma io purtroppo parto da un debito di 3 milioni e mezzo e non posso mettere 3 milioni e mezzo direttamente in un unico bilancio regionale, perché non sappiamo dove prendere i soldi. Ma sistematicamente nei 5 anni noi metteremo i fondi per pagare e ristorare gli agricoltori. L'unione sindacale di base della Molise è stata ricevuta ieri in assessorato regionale ai trasporti per trattare e trovare una rapida soluzione ai problemi degli utenti che soffriscono del servizio di trasporto pubblico per andare a lavorare nell'area industriale della Val di Sangro. Il presidente Toma ha assunto l'impegno di incontrare in tempi brevissimi il presidente della regione Abruzzo. L'unione sindacale di base fa sapere che continuerà ad essere vigile e attenta affinché l'impegno del governatore si traduca subito in una soluzione rapida e ottimale per i lavoratori. In alternativa, ha concluso il sindacato, si organizzeranno forme di protesta concordate con i lavoratori molisani e abruzzesi. Partono i lavori di elettrificazione sulla linea ferroviaria Campobasso-Roma e Campobasso-Napoli. Pertanto da domani verrà interrotta la circolazione dei treni tra il capoluogo regionale Rocca-Ravindola-Venafro. Saranno previsti collegamenti comunque su gomme. Al momento dovranno essere seguite le disposizioni anti-coronavirus, mascherine e guanti a bordo. I lavori dureranno fino a fine 2021. Sentiamo. Marta Martino. I lavori di elettrificazione della linea ferroviaria per collegare il Molise alla Campania e al Lazio entrano nella fase operativa. Da domenica 14 giugno sarà interrotta la circolazione ferroviaria tra Campobasso e Rocca-Ravindola-Venafro, per cui si viaggerà a bordo di bus sostitutivi. Dalle due stazioni di interscambio il viaggio proseguirà poi in treno verso Roma e Napoli. Dal lunedì 15 giugno, quindi Trenitalia garantirà 12 collegamenti al giorno tra Campobasso e Roma e 8 tra Campobasso e Caserta-Napoli. I bus sostitutivi anticiperanno la partenza da Campobasso di circa 20 minuti rispetto all'orario attuale dei treni e fermeranno nei piazzali antistanti le stazioni, ad eccezione di vinchiaturo che avrà la stessa fermata dei collegamenti ferroviari. I tempi di percorrenza tra Campobasso e Venafro e normali condizioni di viabilità saranno di circa un'ora e mezza. Sui bus sarà consentito l'accesso di un numero di persone pari a quelle previste dalle norme attualmente in vigore, munite di mascherine e guanti. La stazione di interscambio di Rocca-Ravindola avrà una biglietteria self-service e una obliteratrice per facilitare l'acquisto e la convalida dei biglietti. L'orario dei nuovi collegamenti in vigore da domenica 14 giugno è consultabile sul sito di Trenitalia presso le biglietterie e le self-service di stazione, nelle agenzie di viaggio e nei punti vendita convenzionati. Secondo quanto divulgato da Rete Ferroviaria Italiana, la tratta Rocca-Ravindola-Isernia sarà completata ad inizio 2021, quella Isernia-Campobasso a fine 2021. Tra i principali interventi l'elettrificazione e la velocizzazione della linea, il rinnovamento dei binari, l'installazione del sistema di sicurezza per il controllo della marcia del treno, l'eliminazione di alcuni passaggi a livello e l'ammodernamento tecnologico della stazione di Isernia. I cantieri vedranno impegnate circa 100 maestranze con l'investimento complessivo di 80 milioni di euro. I grandi disagi che i morizzani saranno costretti ad affrontare probabilmente fino alla fine del 2021 saranno ripagati, si spera, dai risultati che tutti si auspicano. Tra un anno e mezzo sarà possibile andare da Campobasso a Roma e a Napoli in meno di tre ore, viaggiando in sicurezza su una linea completamente elettrificata e moderna. Imprese in Molise, aspettative pessimistiche per la ripresa a causa dell'impatto dell'emergenza coronavirus e del conseguente stop alle attività, cali del fatturato previsti anche oltre il 30%, sono i risultati di un'indagine della Camera di Commercio. Sentiamo. L'impatto dello stop causato dal coronavirus sull'economia in generale è stato duro. In Molise, l'85% delle imprese prevede cali di fatturato, la maggioranza per oltre il 30%, solo il 13% prevede un aumento. È il quadro che viene fuori da un'indagine su base volontaria elaborata dalla Camera di Commercio del Molise per capire il punto di vista degli imprenditori sulle prospettive e la percezione degli effetti dell'emergenza sanitaria. In sostanza, le aspettative di recupero non sono affatto ottimistiche. Solo il 25% degli imprenditori ritiene che i cambiamenti saranno temporanei e ci sarà un graduale ma progressivo ritorno alla situazione precedente. Il 31,6% è dell'avviso che, seppur considerevoli, i danni in termini di riduzione della domanda e perdite non comprometteranno la prosecuzione dell'attività. Durante lo stop per emergenza Covid, 76 imprese su 100 hanno optato per la riduzione delle attività, spesso associata a un forte per il 16% o moderato 13%, ricorso a soluzioni digitali per il lavoro a distanza. In altri casi, continua l'indagine della Camera di Commercio, si è trattato di una limitazione di attività derivante da una chiusura o sospensione imposta dalla normativa. Il 49% degli imprenditori ha dichiarato l'intenzione di ricorrere a strumenti per accrescere la liquidità, il 37% alla cassa integrazione per l'emergenza, il 21,4% alla moratoria sui finanziamenti. Ancora emerge che il 96% degli imprenditori ritiene necessario un intervento per assicurare disponibilità di risorse finanziarie. Diverse persone intervistate hanno specificato che, ancora più di prima, bisogna adesso risolvere i problemi prioritari della carenza di infrastrutture e delle difficoltà conseguenti relative ai trasporti. Per la rubrica Le parole della medicina, oggi il dottor Italo Marinelli ci parlerà della medicina difensiva, cioè dei comportamenti messi in atto dai medici per allontanare il rischio di conseguenze legali connesse alle attività professionali. Sentiamo. Buongiorno, oggi parliamo della cosiddetta medicina difensiva. Che cos'è la medicina difensiva? Si tratta di quei comportamenti che i medici mettono in atto per evitare di incorrere in conseguenze legali che possano derivare da atti di rivalza dei pazienti che ritengono di essere stati trattati in maniera incongrua. Abbiamo due tipi di medicina difensiva. La medicina difensiva positiva, nel senso che di fronte a un paziente si fanno più esami di quanto sia necessario, si prescrivono più farmaci, più procedure, più ricoveri in maniera sostanzialmente inutili, solo per, tra virgolette, coprirsi le spalle. E poi abbiamo una medicina difensiva negativa nella quale, al contrario, si evitano delle procedure considerate a rischio che però potrebbero essere benefiche per il paziente. Si evita un intervento rischioso per paura delle conseguenze quando quell'intervento andrebbe in realtà fatto. Ecco, un problema molto importante, sia in termini di costi economici, si parla di 10 milioni di euro all'anno, cioè circa un 10% della spesa sanitaria complessiva, ma per la qualità complessiva delle cure e il rapporto medico-paziente. Alla base di tutto c'è questo rapporto medico-paziente che è venuto meno. Mio padre ha fatto il medico per tanti anni, non gli è neanche venuta in mente l'idea di fare un'assicurazione per i listi professionali. Io invece a mio figlio ho detto la prima cosa che devi fare è farti un'assicurazione, anche lui è pediatra. Ma perché? Questo non avviene per cattivo volontà dei medici. Il contenzioso legale purtroppo è molto aumentato, c'è un'attenzione mediatica anche esagerata, la caccia, la cosiddetta mala sanità, e ci sono comportamenti della magistratura spesso molto discutibili, sentenze molto ondivache. E poi c'è un altro tema importante, solo in Italia la responsabilità medica è giudicabile anche in sede penale, oltre che giustamente in sede civile. Cioè un medico rischia costantemente di andare in galera per quello che fa. A causa dell'emergenza coronavirus domani a Campobasso, come ormai noto da tempo, non si svolgerà la tradizionale sfilata degli ingegni del Dizzinno, per l'occasione però Telemolise, ha programmato uno speciale che durerà l'intera giornata di domani, a partire dalle 10 del mattino fino a sera. Sono stati selezionati dal nostro quarantennale archivio le immagini più suggestive nell'arco del tempo. Tante interviste inedite, protagonisti dei misteri, autorità esperti che permetteranno di ricostruire la storia e l'evoluzione nel tempo di una delle più sentite e suggestive tradizioni di Campobasso e dell'intero Molise. Già da questa sera su Telemolise è una ricca anteprima, a partire dalle 20.40. L'amministrazione comunale di Roccamandolfi in collaborazione con le scuole locali ha aderito al progetto di sensibilizzazione ambientale Plastic Free. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Con l'obiettivo di sensibilizzare i più piccoli alle problematiche dell'inquinamento ambientale, l'amministrazione comunale di Roccamandolfi ha promosso un progetto per ridurre il consumo di plastica. Tutti i bambini del micronido, della scuola dell'infanzia e della primaria riceveranno borracce in alluminio personalizzate. Stando ai dati delle Nazioni Unite, ha ricordato il sindaco Giacomo Lombardi, ogni anno più di 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, causando problemi a non finire. Se si continua così nel 2050, nel mare ci sarà in termini di massa più plastica che pesci, ripeto, più plastica che pesci. Questi sono dati decisamente preoccupanti. Nel nostro paese invece, in Italia quindi, ogni anno 8 miliardi di bottiglietti finiscono nella spazzatura. Per tutte queste ragioni e per questi dati decisamente allarmanti, l'amministrazione comunale di Roccamandolfi ha diritto con entusiasmo e convinzione al progetto di sensibilizzazione chiamato Plastic Free. Abbiamo acquistato queste borracce, borracce assolutamente personalizzate e nominative, borracce riutilizzabile, che verranno distribuite nei prossimi giorni a tutti i bambini del micronido, della scuola dell'infanzia e della primaria di primo grado. una borraccia che può essere portata sempre con sé. Qual è l'obiettivo dell'amministrazione comunale? L'obiettivo è quello di, in modo semplice ma sicuramente importante, di far comprendere ad ogni bambino, e non solo, che l'utilizzo di una borraccia Plastic Free può essere una vera e propria rivoluzione in termini di impatto ambientale. Inoltre, il nostro obiettivo è anche quello di educare le nuove generazioni ad una vita ecosostenibile. È tutto, termina qui il nostro telegiornale delle 14, dopo la sigla, le previsioni meteo, poi la linea. Ai colleghi dello sport, buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti. Grazie a tutti.